Ciao a tutti! Oggi voglio parlare di una cosa che mi è successa lì sia faccio tranquillamente su facebook come metto i miei mail metto la mia password e mi succede questo vedete qua questo è scritto mi sono dovuta rifare un atto account il mio nuovo account di facebook è questo qua ho fatto un casino di serie per rifare e ovviamente incomincio a fare pubblicità sulla mia nuova pagina che ho dovuto rifare in questo profilo la pagina si chiama I love you Michael Jackson invece questa pagina si chiama Michael Jackson Italia e io volevo incominciare di nuovo tutto a capo in più ho fatto anche una pagina in cui ci sono io questa pagina l'ho chiamata parlo Jackson cosplay perchè sono incominciando a fare cosplay poi questo video lo metterò su youtube e anche sugli altri canali la pagina l'ho chiamata parlo quindi la pagina l'ho chiamata parlo